La nuova frontiera d'acquisto, il mercato delle aste immobiliari. Nell'era post-covid le aste immobiliari sono ancora nel radar dell'interesse degli italiani. A livello regionale, attenzione, comanda la Lombardia, risulta essere il territorio in cui si è tenuto il maggior numero di aste per una media di circa 9.000 immobili all'incanto. Seguono la Sicilia con una media di 7.300 aste quadrimestrali. Tra le città, Roma il primato, mentre Catania è terza con 1.394 immobili. I tribunali che hanno gestito il maggior numero di aste, quelli di Roma 6.350 e Catania ancora terza con 4.671. Per quanto poi concerne la base d'asta media degli immobili residenziali, il valore annuale si assesta a 133.000 euro, mentre gli immobili commerciali si stabilizzano a circa 178.000 euro.